se devi scendere faccio la foto insieme no grazie così sono quelli che vanno 200 bravo no prevede è che a domani sei e adesso poi in avalia si è venito pagando senza cigarelli no ma sto pensando che cazano eh tu dava che da picco però è che è che a giocare 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 quattro bravo a giocare a giocare a giocare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.